Last Christmas I gave you my heart, very next day give you a way, this year save me from tears, killing to someone special. Allora? E questo è soltanto un piccolo assaggio di quello che ci aspetterà il 26, proprio che non si spalle il Teatro Apollo, per un concerto di beneficenza, il concerto di Natale, ma un concerto veramente esclusivo. Cichi, cosa c'è in servo per il 26? Allora, innanzitutto buongiorno, buonasera o che ne so, come possiamo dire? Come vuoi, tanto a Natale si può tutto. A Natale si può tutto. Ok, allora ragazzi, questo è il biglietto, Night City for Children. Noi ogni anno, con i Night City, che è il gruppo di cui io faccio parte, organizziamo qualche cosina per i... cerchiamo di fare della solidarietà, ci divertiamo tanto facendo della musica, che sia anche costruttiva per le persone che non stanno molto bene, per quelli che hanno bisogno, in questo caso i bambini. Quindi, il ricavato della serata a chi sarà devoluto? Allora, noi abbiamo insieme a due personaggi speciali, che credo tu conosca, Franco Russo, Tony Enriquez, che sono Cuore Mani Aperte e Angeli di Quartiere, abbiamo regalato, stiamo regalando una incubatrice a pediatria e neonatologia dell'ospedale di Scorrano, che pensa che l'incubatrice sarà con noi sul palco e quindi, niente, cerchiamo di fare del bene con queste persone speciali. Questo è il biglietto, costa solo 10 euro, noi saremo il 26 di dicembre in questo spettacolare teatro, quindi grazie. Allora, che dire, tutti insieme per le solidarietà e per i bambini, qui appuntamento all'Apollo la sera del 26 dicembre.